Signor Adagio Cristo, buongiorno. Oggi è il primo giugno, il primo sabato del mese. La Chiesa ricorda San Giustino Martire, Sant'Annibale Maria di Francia, San Giovanni Battista Scalabrini. Il giugno è il mese dedicato al Sacratissimo Corre Gesù, e al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. Mi hanno raccontato menzogne gli orgogliosi che non seguono la Tua legge. Davanti ai Re parlerò dei Tuoi insegnamenti e non dovrò invergognarmi. Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunità dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo, o Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al Santo Martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concidi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza nella fede. Dalla lettera di San Giuda Apostolo Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per metodo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. Parola di Dio. Assete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurore io ti cerco. Assete di te l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti roderà la mia bocca. Alleluia, alleluia. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Tutto fate rendendo grazie per mezzo di Lui, a Dio Padre. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da Lui i capi dei sacerdoti, gli iscrivi e gli anziani gli dissero, con quale autorità fai queste cose, o chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro, vi farò una sola domanda, se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto. Diciamo dunque dagli uomini, ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concede a noi di essere doce negli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione San Giustino, vi bene cadini potente Padre, e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.